Buonasera, io sono Luca Eletto e seguo Warriors da circa un anno, sono iscritto a fine marzo del 2017 arrivavo da un periodo, un anno precedente molto intenso, avevo divorziato, arrivavo da un momento professionale in cui non ero soddisfatto, avevo iniziato a fare della formazione con altre società e poi per caso sono venuto a conoscenza tramite Facebook di Warriors e di Vincenzo e anche lì per una sera ho detto vado, mi iscrivo e partecipo. Quello che mi ha colpito rispetto alle altre società è innanzitutto come Vincenzo fruisce questi argomenti che hanno una profondità e uno certo spessore ma li rende fruibili a tutti affinché poi le persone possano mettere in pratica. L'altra cosa che a me piace e che sto mettendo in pratica con me è che nonostante con le altre società con le quali ho fatto dei corsi di formazione non ti dessero la possibilità poi di mettere in pratica perché a mio avviso finché tu riempi la testa di tante nozioni e poi non hai la possibilità di metterle in pratica, di testarle su te stesso, c'è il rischio poi che a un certo punto arrivi e fai tanta confusione, invece con Vincenzo io personalmente ho avuto la possibilità anche altre persone hanno la possibilità tuttora di mettere in pratica ciò che si dice durante la serata ci sono due modalità, una attraverso delle coaching one to one dove ci si incontra settimanalmente oppure se decidi di fare il percorso perché poi ti porterà a essere relatore. Grazie